Vittoria, sono qui da lei. Iniziamo le vostre missioni. Già il titolo, Operazione Barca di Namitara. Iga. Madonna, se sei brutta. Una nuova fazione vuole entrare a Londra e prendere il potere. Pensate di essere in pericolo, maestà? No, temo che saranno gli abitanti di questa città a farne le spese. Vi chiedo gentilmente di sventare questo complotto. Potete contare su di noi. Un mio uomo vi aspetta al porto per istruirvi. Dovete iniziare immediatamente. Ammazza. Ah, mi hai trasportato direttamente, grazie. Eh, io non mi sono sceso dalla corda, ma ok. Molto piacere. Cioè? No. Non puoi farlo tu, scusa, che cazzo da frega è? Benfan, ora i miei agenti sono qui, i naviti civili. Disponeteli voi per la guada. Eh? Una nave è in arrivo da Boston. Trasporto antivenute. L'equipaggio informato da tutti. Perché non accoglierli con la guada? Se proprio dobbiamo farlo, lo faremo. Bella idea. Eh... E come li posiziono io, guarda. Non l'ho capito. Oh no. Ah, basta fare così, no? Porca troia, che è successo? Sta ancora subendo l'elettricità questo qui Com'è possibile? L'ho buttato sulla barca ed è morto Ok Perché è vivo sempre? Ma che gentile da parte sua Anche a aspettare quello lì, complimenti, grazie Come oggi Ok E perdi un po' più furbito, prego Signora, eccoci di nuovo qua La locomotiva stavolta Prima un traghetto, adesso una locomotiva Ella, davvero Cioè, non l'ha torturato abbastanza? Ok Devo picchiarti Ah, grazie Ah Sei abbastanza forte, mi dicono Oh Vuoi confessare o no? Ok 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 Ok, via, via, via Iga, 2 minuti e 20 Fortuna che è lento Salta su Toglietevi dal gas Salve Muori Ha detto muori Non ho tempo per te Non ho tempo neanche per te Ciao Ci rivedremo dopo Ciao Via, 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 via Corri dritto, corri dritto Salve Corri dritto Salve Ora ho tempo per voi? No, direi no Stacca, stacca Stacca tutto Lo vi ammazzo così, eh Uh Esploso prima di quel che pensavo E muori Ammazza la velocità Il mio compianto marito amava questi giardini Per lui erano un porto sicuro nel mezzo delle tempeste di questo mondo Mi manca così tanto Vabbè Ma lasciamo perdere Al lavoro Il signor Fleming ha saputo dal templare prigioniero che un attacco è prossimo Ma prima di rivelarci i dettagli è riuscito a fuggire Ehi che Ma che capo templare di merda è? Vostra maestà Vorrei incontrarti con gli altri tuoi spiritori Ma poi Pedina Dimmelo prima Ah però Devo pedinarlo ancora? Ok Nooo Ci sono troppe persone Porterò via gli esplosivi Prima di continuare la caccia Ok Cioè ammazziamoli Voi? Ah no ma è un oggetto Quindi li massacro normalmente Buongiorno Addio Grazie Oh porca Via da quei ragazzi Toglietemi tutti Ho un camion in piame Che figlio di puttana che sei Un posto di blocco Ma andate affanculo Via di qui Ho un camion pieno di dima Vito Vito tutti fermi Ah c'è un incendio Ma siete bastardi Affanculo passo sul marciapiede Toglietemi dal cazzo Via via scendi scendi Imbecille Nove secondi Fuga Ok E' esploso Siamo anche all'ultima missione sua Immagino Sta facendo una foto Scusi se li passo davanti Buongiorno Gli ultimi membri del gruppo Tentano una disperata resistenza Sono entrati nella sede del parlamento E vogliono far esplodere la dinamite rimasta Quanto cazzo di dinamite hanno? E' che cazzo Eccomi Bene Ok Come caps Direi che non era così difficile Come faccio a farlo esplodere da solo Per sé Ma vabbè Scusate ma dovrei Ok Tranquilli Non è successo niente Niente No vabbè La sottomissione Andata affanculo Non la faccio Ho ammazzato appena in tempo Cazzo succede A voi Il capo templare Ma perché devo atterrarlo? Non lo posso uccidere E' così semplice Tu? Fermo primo ministro Vi libererò subito Restate dove siete Chiaro È finito Non capite La sede del parlamento Esploderà L'ultimo rinzocco Del metro dicio Tra tutti è beccato L'unico Spostati un millimetro Perfetto E' allora di andare A disescare E' a sinistra L'uscita Eccolo 20 secondi Vola Usa quel cazzo Di rompino Non ce la farò mai Non ce la faccio Il Big Ben esploderà Addio In realtà L'unica bomba Era nel Big Ben Cioè devo visualizzarla Per forza Prima di Disney Scarlock Eccolo Non l'ha localizzato Ok Posso uscire Da qua a destra Perfetto Da qua il cazzo Di rampino Dove cazzo sta Eccola Certo che qua Stavamo ammazzato tutti Non può essere Comunque Ce l'abbiamo fatta Eri il primo ministro T'ho rotto un po' i coglioni Io durante la prima missione Davvero Ma non ti stavo sul cazzo Signora Vittoria E che cazzo Mi devi fare Se non passasse il treno Proprio adesso Sempre per garantire La salvezza Ma con tutto il rispetto La nostra filosofia Non approva L'espansione Del vostro impero Forse maestà Potreste considerare Di mettere fine Alle mie Colonialiste Capisco E rispetto Tale posizione Legati come siete Al vostro credo Ma siate indulgenti Per un'ultima volta E accettate I miei doni Ok Addio E che Dio benedica I nobili gemelli Penso proprio Che non ci offrirà più Eh già Ma almeno era buona Perfetto E direi che con questo Noi Abbiamo finito Tutte le missioni Secondarie Quale più Importanti Diciamo E quindi Io finirò Qui a Assassin's Creed Del tutto Anche questi extra Sono finiti Vi ringrazio Per avermi seguito E ciao a tutti Ragazzi Per avermi seguito